Musica Mercoledì 20 gennaio, buongiorno a tutti e ben ritrovati, grazie a tutti i telespettatori di Fano TV in diretta, sono le 7.31, siamo qui come tutte le mattine per dare uno sguardo ai giornali. Questa mattina tra l'altro abbiamo solo il resto del Carlino perché il Messaggero e il Corriere Adriatico hanno dei problemi con lo scaricamento delle pagine in PDF, vedremo magari nel corso delle prossime edizioni se riusciamo a recuperarle. Andiamo con ordine però, cominciamo dal santo del giorno, oggi è un santo particolare, soprattutto la sua elezione a Papa, perché San Fabiano intanto ha regnato la Chiesa dal 236 al 250, e la sua elezione avvenne perché si narra che una colomba si posò sulla sua testa e lì per tutti fu la scelta diretta dello Spirito Santo e fu, comunque fece tante cose importanti per la Chiesa di Roma. Andiamo a vedere il tempo, no anzi, il resto dell'armanacco, il sole, il sole è sorto alle 7.36, tramonterà alle 17.02. Allora il tempo, dicevamo, oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento nei valori massimi, attenzione alle gelate notturne, sono meno 3 gradi alle 7.30 del mattino, meno 3 gradi, le strade sono completamente gelate, comprese le automobili che sono rimaste parcheggiate all'esterno e non in garage, quindi organizzatevi. Poi giovedì, domani, possibilità di qualche isolato rovescio nevoso al di sopra dei 900 millimetri, temperatura ancora in aumento, i venti di brezza leggera diventeranno tesi sud-occidentali. Poi venerdì, ecco qua il tempo di venerdì, 22 di gennaio avremo un cielo inizialmente nuvoloso, con schiarite dalla mattinata e prevalenza di cielo sereno nel pomeriggio, ma nella nottate al primo mattino avremo deboli rovesci sparsi, più probabili lungo la fascia costiera e collinare, nevosi sopra i 600 metri, le temperature sono senza variazione di rilievo, i venti sono nord-orientali di brezza leggera o tese, il mare è mosso. Tempo stabile per il fine settimana e probabile stabilità anche per l'inizio della prossima. Allora, il tema della sanità occupa gran parte delle pagine dei giornali, noi questa mattina, come ho già detto, in questa edizione in diretta abbiamo solo il resto del carino, allora cominciamo dal duello sulla sanità, il duello naturalmente tra Fano e Pesaro. Fano se rigioisce una notte sola, Movimento 5 Stelle preso in giro e umiliato, non il sindaco, ma preso in giro e umiliato tutti quanti, secondo la tesi dei 5 Stelle. L'opposizione va all'attacco, Pesaro, ecco perché umiliati e presi in giro, Pesaro ha già deciso, secondo il Movimento 5 Stelle, ogni cosa. Quindi, come dire, quel consiglio monotematico è stata una presa in giro, una farsa. Che cosa ha chiesto il sindaco Seri al presidente Ceriscioli? Pari dignità, innanzitutto, per gli ospedali di Pesaro e Fano. Poi la chirurgia, la chirurgia H24, quindi operativa 24 su 24, oggi se c'è qualcosa bisogna andare a Pesaro, e poi ha ribadito, come sito idoneo per la costruzione del nuovo ospedale, la località di Chiaruccia. Un'area pubblica, priva di vincoli ambientali, baricentrica rispetto alle vallate interne, facilmente accessibile. Però, cosa dicono i grillini e poi anche il resto dell'opposizione? Abbiamo capito da Ricci che i giochi sono stati fatti da sei mesi ai danni della città di Fano. Santorelli, invece. Santorelli che dice, se Matteo è un amico di Massimo, Massimo Seri, meglio i nemici, perché abbia così uno scatto di orgoglio. L'altra pagina del resto del Carlino sul tema della sanità, eccolo qua, Ricci, con davanti la cartina geografica, che la vedete qui sotto, dove lui spiega ai giornalisti, che ieri mattina sono accorsi in massa ad ascoltarlo durante la conferenza stampa, Ricci mette sul piano l'opzione privati, se non li volete al Santa Croce c'è muraglia. Il sindaco di Pesaro rompe il silenzio, basta con i campanilismi. Messaggio a Massimo Seri, dice di serio stima, ma non si può chiudere su Chiaruccia, che è come case bruciate. Poi a Ceriscioli invece Ricci manda a dire, sono mesi che sto zitto e aspetto che il realismo superi ogni voglia di rinvio. E allora basta con i campanilismi, l'ospedale unico, Chiaruccia dice Ricci, non esiste, come non esiste costruirlo a case bruciate. Le soluzioni per Matteo Ricci sono due, Fosso Signore oppure muraglia, dove i costi sono certamente ridotti. Il nuovo ospedale non è un ospedale provinciale, ma riguarda la costa, ovvero 250 mila abitanti. Per l'entroterra invece ci sono gli ospedali di Urbino e di Pergola. Questa è un po' la situazione, quello che ha scritto, che troverete sul giornale di questa mattina. Sulla pagina di Fano invece si parla dell'Istituto Agrario Cecchi. La Regione ha votato, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un emendamento presentato dal Consigliere Carloni. C'è Chiaffano, la Regione dà l'ok, però c'è l'alto là del Presidente della Provincia Tagliolini, che è questo signore che vedete cerchiato qua. Tagliolini dice, ora basta alibi, la provincia potrà reperire spazi, potrà reperire spazi per reperire nuove sedi, senza chiedere l'ok alla Regione, quindi ad Ancona. Però ecco il nodo e la doccia gelata da parte dei tecnici che dicono sarà però impossibile aprire una sede a Fano. Il perché lo trovate scritto in questo articolo di spalla sul quotidiano di questa mattina. Poi ci sono nuove regole invece per ristoratori, baristi, regole che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche e la costruzione e la realizzazione di bagni per persone disabili. O si fa così oppure addio licenza. L'altra pagina del resto del carino invece parla, troverete, tutto quello che riguarda il Gran Galà e il Veglione di Carnevale. Stiamo ormai per arrivare alla prima di Carnevale, domenica prossima c'è la prima grande sfilata, ma ci sono altri appuntamenti anche nei giorni prima. Nostalgia degli antichi fasti. Il Carlino ripropone questa mattina due belle fotografie. Questa che è del 2010, una festa in ballo, festa in maschera a teatro, al Teatro della Fortuna. Qui invece siamo nel 55 con il Veglione al Politeama. È una fotografia che è stata tratta dal libro Luciano Pusineri, lo spettacolo dell'arte, di Manna e Clappis. E secondo Clappis, che scrive questo pezzo questa mattina sul giornale, la location della palazzina Sabatelli, dove è in programma questo appuntamento, questo Veglione, questo rispolvero il 7 di febbraio, il biglietto costa 45 euro, scrive il Carlino, ebbene la location sarebbe troppo lontana, la palazzina Sabatelli sarebbe troppo lontana. Perché dicono allora, perché dice non aprire i palazzi del centro storico? C'è un'ampia scelta, per esempio, perché sono disponibili Palazzo Bracci, Corbelli, Saladini Ferri, Montevecchio e Borgogeli. È una proposta e quindi adesso, ormai penso che sia tardi per quest'anno, ma si potrebbe benissimo lavorare per il prossimo. Poi, sul nodo dell'ospedale, scusate, dell'aeroporto, ieri c'è stato un incontro in comune tra l'amministratore unico di Fano, un fortuna dell'aeroporto di Fano, che è Santorelli, Gianluca Santorelli, e il sindaco Seri. Bene, aeroporto Eagle Aviation si fa avanti per comprare le quote societarie dei tre enti. Tre società hanno infatti disdetto il contratto con l'aeroporto di Fano, da quando il dirigente del servizio infrastrutture della regione, Piccinini, ha dichiarato a soli 24 ore che esiste un problema di compatibilità ambientale con l'abitato circostante. Siamo nella zona del Vallato, lì ci sono le case, soprattutto legato all'impatto sonoro che bisogna affrontare. Ebbene, questo per qualcuno è stato un danno economico per questi soci, economico non indifferente, quindi insomma se ne sono tirati fuori. Adesso Eagle Aviation si fa avanti per comprare le quote societarie di questi tre enti. Poi andando sulle pagine, sfogliando le pagine del resto del carino di questa mattina, troverete anche il ritorno del barbiere, un antico mestiere che a quanto pare non passa mai di moda. Siamo oltre la moda infatti. La tendenza hipster è quei visi maschili scolpiti, per i parrucchieri tagliare la barba era diventato un segno del passato, ma da qualche anno non è più così. E ci sono le interviste, le fotografie dei vari parrucchieri che operano nella città di Pesaro. Poi sotto invece, parlando di moda, ve ne sarete, ce ne siamo accorti tutti quanti, queste barbe che adesso vanno tanto di moda e il volto ursuto appare come segno di virilità. Una scelta consolidata, ma c'è in arrivo anche il capello lungo, quindi stiamo tornando un po' indietro nel tempo. Ogni tanto queste mode si ripropongono, così come i vestiti e quant'altro. Poi, l'altra pagina invece, traditi dalle banche e dalla finanza, e quindi i pesaresi tornano a investire i propri soldi sulle case, sul mattone. Dopo anni di calma piatta ripartono le compravendite, però c'è chi è deluso, dice il clima di sfiducia verso gli istituti di credito, ha contribuito all'accelerazione, però si fa un po' da soli. Perché? Perché paradossalmente il comparto delle case dice sì, in effetti la gran parte delle compravendite si registra tra privati, dice Venturi sulle case nuove c'è un po' meno fermento, perché? Perché l'IVA è considerata troppo alta, e poi c'è sempre il discorso sulle ristrutturazioni, che comunque fa gola. Noi ci fermiamo qui, non c'è altro per la rassegna stampa, il giornale, le sei pagine a nostra disposizione del resto del carino sono terminate, ricordo che per un problema che non dipende da noi, non erano disponibili questa mattina alle 7 le pagine del Messaggero e del Corriere Adriatico, vedremo se nelle prossime edizioni riusciamo a trovare una soluzione, oppure saranno disponibili, quindi magari torneremo di nuovo in diretta per leggervi i titoli delle notizie più importanti. C'è il telegiornale stasera alle 20.30, ve lo ricordo, ma c'è anche il nostro sito internet sempre aggiornato, così come aggiornate la nostra applicazione, che potrete scaricare gratuitamente accedendo agli store di Apple e di Google. Buona giornata a tutti e arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.